Che caratteristiche hanno il mediglio? La caratteristica principale del mediglio è che sono corti, non sono molto lunghi, non hanno delle grandi pretese e sono molto ecletici. I studenti presentano argomenti diversi perché io ho insegnato per molti anni storia, italiano e grammatica in tutti i suoi aspetti linguistici. Ho insegnato anche alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media e alle superiori. Questi sono i quattro ordini scolastici in cui ho insegnato. Quindi l'obiettivo principale è quello di modulare dei video che possono essere utili in tutti gli ambiti scolastici. Ciao a tutti, al prossimo video, vi aspetto!